Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati per questo nuovissimo appuntamento con Costruisci l'indimenticabile Fiat 508 Balilla in un grande e inedito modello celebrativo in scala 1 a 8, l'edizione è a 7, prima uscita a 1 euro, le successive dalla terza uscita in poi, terza compresa, 11,99 euro. Quanti sono i numeri per questa collezione, i numeri necessari? Andiamo subito a vederli. 100 uscite, meno male che siano rimasti nelle 100 uscite. La seconda uscita a 5,99 euro, abbiamo una delle ruote, parte dei fari, se non vedo male, poi abbiamo questo, sì sono i fari anteriori, poi abbiamo, eh sì questi sono i piccoli led, penso eh, abbiamo poi la bara che li regge, questa qui, eccola, e poi abbiamo, come mi ha anche consigliato il mio amico Michele, abbiamo il tester per provare le luci con all'interno il vano per mettere poi due batterie che non sono incluse. Avremo poi il radiocomando, eccolo qui, vedete, questa azienda, Ascetti in questo caso, ha fatto una cosa secondo me molto gradevole, che è quella di mettere il nome del modello sopra il radiocomando. Ci voleva veramente poco farlo con la Lancia Stratos, la UD4, la Lancia 037 e altri modelli che, come il Ford Gran Torino di Staschi Hatch, non capisco il perché usiate un telecomando così anonimo, comune a tutti, con qualche tasto in più, ovviamente dove ci sono più funzioni, ma non andate, non andiate a mettere un nome sopra, come in questo caso questo che ha fatto Ascetti, che ha fatto benissimo, 508 Fiat Valilla. Ecco, non ci vuole molto, anche un adesivo se non volete fare la serigrafia, ma sicuramente è più gradevole, magari lo farete un giorno, speriamo. Allora, carrozzeria chiaramente in plastica e metallo, qua ci dice interni fedeli nei dettagli, beh, ce ne sono ben pochi di dettagli in una macchina del 1932, per quanto riguarda almeno il cruscotto. La perfezione meccanica, così scrivono, le ruote sterzanti, e beh ragazzi, almeno le ruote sterzanti devo averle, e le gomme sono morbide, in gomma morbida. Allora, farò questo modello? Non lo so ragazzi, non lo so perché non è un modello che è in linea con quelli che sto facendo, però è bellissimo, è bellissimo. Io, ad esempio, ho fatto dei modelli della Poker Riva Rossi che sono in linea con questo, ecco, anche se sono un po' meno datati, come l'Alfa Romeo Mille Miglia Scuderia Ferrari 2006 8 cilindri della Poker Riva Rossi che comprai a 250.000 lire, circa 127-128 euro di oggi, ma avevo, forse, se non ricordo male, nel 98-89, quindi avevo 23-24 anni, non di più, 22-23 anni, ecco. E quella è bellissima, come ho comprato anche la Roll Royce Ambassador, quella verde, o la Bugatti, quella gialla e nera, o la F2 della Fiat, e poi qualcos'altro che adesso non ricordo, però, insomma, non ho molti di quei modelli. Però qua sono anche soldi, e quindi adesso ho iniziato la 037, forse farò la Giulia Junior, la Super, chiedo scusa, la Giulia Super, la GTA, la Gran Turismo Alleggerita, dell'Alfa Romeo, che la fa la De Agostini, mentre invece la 037 la fa Centauria. Sto facendo altri modelli, come sapete, anche se manco un po' dai video, perché vi ho spiegato, chi mi segue lo sa, non ho rinunciato a fare le collezioni, semplicemente ci sono un po' di problemi con dei numeri che ho spiegato anche questo, e che quindi non ritengo di dovervi di nuovo spiegare, perché i video potrebbero diventare ancora sicuramente più lunghi. Quindi devo decidere se farla, devo decidere, però vi posso far vedere una cosa. Io, circa 30 anni fa, sì, ho 57 anni, quindi 30 anni fa, avevo 24, 25, forse un po' più di 30 anni fa. Non so se riesco a farlo stare qua dentro, perché questa è una base che ho fatto per la Roll Royce Ambassador, quella verde, della Poker Riva Rossi, e io l'ho fatta in scala 1 a 8. Siccome facevo anche i palchè, quelli veri, adesso come faccio a farvela vedere? Ve la devo per forza far vedere così, ragazzi, non ci sta tutta in lunghezza. Ve la faccio vedere così, abbiate pazienza. aspettate, ecco qua, questi li faccio io. Queste sono le basi che io ho deciso di fare, una base di legno medium density, vedete, e poi mi sono tagliato tutti i listelli, uno per uno, ho fatto la cornice, come quello vero, in camera dei miei genitori c'è questo pochetto qui, si chiama lisca di pesce, vedete che abbiamo questa lisca qua, che sembra la lisca centrale del pesce, e da qui si chiama appunto lisca di pesce. E queste sono basi che poi per i miei abbonati, se vorrete scrivermi, scrivermi in privato, e avete bisogno, mi dite la lunghezza, io le faccio su commissione. È certo che hanno un prezzo, perché comunque sono fatti tutti a mano, come ve l'ho detto, io non compro questi pezzi qui, perché queste misure così larghe non ci sono, sono più piccole, e quindi devo fare tutto a mano. In questo caso ho dato un noce chiarissimo sopra e l'ho tirato a cera, però si può dare anche semplicemente una cera sopra e lucidarla poi con della lana 3-0, 4-0, chiaramente previa a levigatura prima del tutto, e quindi farlo anche in colore, colore naturale insomma. Questi sono attaccati uno per uno, ecco, e immaginatevi come sta una balilla qua sopra, perché è difficile anche metterla su una base giusta che renda merito al modello, e questo sicuramente lo fa. È certo che qualora avessi diverse richieste dovrò limitare anche questo, perché c'è tantissimo lavoro, ecco, io adesso non è che sto dicendo che mi arriveranno centinaia di richieste, però già farne 20 vuol dire rimanere impegnato, considerando che c'è anche il lavoro e il canale, ci vogliono dei mesi per poter servire un po' tutti, ecco, ma diversi mesi, non un mese o due. Quindi ecco, non potrò certo farne a numero indefinito, se mai dovesse andare così bene questo lancio, perché è da tempo che volevo farlo, e vedremo ragazzi, vedremo adesso per quanto riguarda il modello se lo farò, perché ho tante cose che sto facendo, c'ho anche dei robot come il Mazinga Z che adesso continua, appena ancora mi arrivano ancora due invii, però anche lì sono circa 53 euro di invio, quindi insomma sono spese, lo sappiamo tutti, non vi devo spiegare più di tanto, eccolo qua il mio amore, Michelangelo è arrivato, ciao amore mio, è puntualissimo, allora, è sicuramente bella, bisogna vedere gli accoppiamenti di questi filetti poi con la carrozzeria, se saranno perfetti, io mi auguro di sì, comunque, vi ho detto un po' di cose, attenzione amore, aspetta, ecco qua, la lunghezza è, questa è la misura della teca, la lunghezza di questo modello è 44 cm per 18 di altezza e 19 di larghezza, ci sono le luci che si accendono, qui vediamo l'accensione, addirittura gli stop si vede il pedale sul freno, il clacson, le luci, gli anabaglianti e abbaglianti e poi questo dovrebbe forse essere, non lo so, non credo che sia retroilluminato il cruscotto, vediamo, clacson, motore, fare, anteriore, luci può essere riattivabile, la telecomando, no, non c'è la retroilluminazione del cruscotto, è buono. Qui vi dice che a partire dalla sesta uscita, quindi sesta uscita compresa, con un euro e cinquanta in più, non scrivete solo a scelte, come ho detto anche per la di Agostini, solo è sbagliato, sono tanti un euro e cinquanta in più per una teca del genere, sono tanti, perché un euro e cinquanta in più, se abbiamo 100 uscite dalla numero 6, vuol dire che 95 uscite le dobbiamo pagare un euro e cinquanta in più, che fanno 95 euro se fossero un euro, più la metà di 95, che fa 47 euro e 50, quindi siamo a 142 euro, diciamo, siamo a 142 euro in più e 142 euro per avere la teca, ma anche no, con 142 euro, altro che questa teca io mi vado a comprare, questo io penso, quindi andare a scrivere solo è sbagliato, è sbagliato, imparate a non mettere solo, anche perché non tutti sono ricchi e quindi è un modo anche sbagliato di porsi verso le persone, perché come fate a dire costa solo, anche chi compra la Ferrari dice costa solo 300 mila euro, 200 mila euro, ma solo per lui, non per noi, quindi mettete un euro e cinquanta in più a uscita, basta, secondo me sarebbe giusto fare così, e come ho anche detto il consiglio che do ai collezionisti, se avete intenzione di fare più di un modello, più di due modelli, insomma finché uno o due modelli va bene, vi prendete la teca, ma quando avete intenzione di farne tanti ragazzi, compratevi le vetrinette, quelle che almeno ci stanno due modelli a ripiano, 4 o 5 ripiani, vi stanno da 8 a 10 modelli, e un altro vedere, ve lo garantisco, avere una vetrinetta lì, con tutti i modelli dentro, e un altro vedere, 140 euro, 150 euro, addirittura per la teca della 0,37 arriviamo a 1,90 euro in più, non so se viene a costare 190 euro, 200 euro una teca ragazzi, ma stiamo scherzando davvero, siamo alla follia più totale, esageratissimo, quindi scusatemi, se fate 8 o 10 modelli per 150, 170 euro, vedete voi, sono 1700 euro, andate subito sui vetri, trovate le vetrine di occasione, io vi consiglio sempre il vetro temperato, costa di piuma è più sicuro, è più resistente, e le comprate lì, quelle antipolvere, quelle stondate con i bordi in alluminio, e un altro vedere, una vetrina con tutti i modelli lì davanti a voi, è qualcosa di bellissimo, poi è ovvio che il modello è vostro, va bene, qui vi danno le solite, diciamo, sono un po' sciocchezze, no, il cappellino, ma quando lo metteremo mai, il portachiavi, cioè, non so se uno di voi ha il portachiavi sulle, sulle chiavi, se c'è qualcuno che ce l'ha, boh, ecco qui, qui abbiamo poi un bel servizio, devo dire, editoriale, perché quando si scrive sulla storia, perché è importantissima, eccola qui, quella che ho io, dovrebbe essere questa, la F2 è possibile, tipo questa, i 24 HP dovrebbe essere questa, 24 cavalli, e dicevo che quando si ha il giusto, si dà il giusto merito a un modello quale è questo, fa piacere leggere anche le didascalie, no? Allora, cosa c'è in questo modello? Io sono andato a prenderne due uscite, tanto voglio dire, un euro, sono sì soldi, ma non è tantissimo, si può fare, anche come gadget, è carino. Questa è la prima uscita, la seconda uscita, l'abbiamo visto, mi sembra, insieme prima, che è una ruota, vero? Riguardo un attimo, qua non c'è, eccola qui, la seconda uscita c'è la ruota con il tester che vi avevo detto per le luci, che vi consiglio di acquistare quello che vi ho anche detto prima, così come mi ha detto il mio caro amico Michele, che è uno dei miei abbonati diamante, grazie Michele, e grazie a tutti quelli che sono abbonati, se avete piacere iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, date un'occhiata anche alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto e infine, qualora ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, ti contatti privatamente, grazie. Stavo cercando di capire cosa fossero questi, curiosità, questi puntini di vernice all'interno. Allora questa è in plastica, ecco lui invece è tutto il mio amore, eccolo qui, questa è in metallo, fermo, questa è in metallo ed è leggermente piegata e non deve essere piegata, quindi andiamo a drizzarla un po', così, ecco, così è a posto. Guardate che bella questa scritta balilla, aspettate che accendo l'anello luminoso ed è in metallo, questo è in plastica, che è il fregio superiore della cornice. Amore ascoltami però, amore mio, mi stai calpestando tutto, va bene che è una macchina di una certa età, però questa è nuova. Questa è la griglia del radiatore, questa è la cornice del radiatore, stavo guardando questi puntini qua, vedete, che sono imperfezioni, credo, voglio vedere l'altro, ascolta, amore, o salti o vai, o vai dentro. Sto guardando l'altro, anche sull'altro è previsto, per cui è presente, per cui magari non è un'imperfezione, ma è il posto dove poi si mette il logo della balilla. Ah, ecco, 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 assolutamente mi sono sbagliato perché appunto non è un'imperfezione, ma come vi dicevo, vedete, ci sono questi due fori che vanno posizionati poi in questi due perni, perfetto, perfetto. Ok, allora, montaggio, questo pezzo è davvero pesante, ve lo dico, è davvero pesante, non è una semplice lamiera, ma è un modello molto pesante, è un modello, è un pezzo molto pesante, quindi abbiamo anche questo logo qua, Fiat, guardate che carino, aspettate perché mi metto a fuoco le cose dietro, ecco, più o meno sono riuscito a farvelo vedere, quindi passiamo al montaggio, questo va montato qui, mettete il dito dietro quando spingete perché vi ricordo che la griglia è in plastica e si danneggia subito, altrimenti, ecco qui, è entrata perfettamente, vediamo che non esca anche con facilità, no, non esce, quindi va bene così. Poi, questo lo metto qui, anche questo bisogna inserirlo a pressione, però accertiamoci che i perni corrispondano dietro ai fori prima di spingere, ecco qui, fatto questo metto la griglia, vediamo se è uguale in un senso o l'altro, io direi di sì, non vedo alcuna differenza, né al tatto, né visivamente. abbiamo questi due fori che combaciano con i perni, molto carina, è così, e però bisogna reggerla perché ci mancherà chiaramente il pezzo poi dietro che ci verrà fornito in corso d'opera qualora si decidesse di continuare con questo modello. metto questo pezzo sopra deve entrare bene, altrimenti bisogna insistere. però è un po' troppo libero, ecco, va bene, per adesso lasciamolo così, poi sapete che vi basterà deformare appena appena i perni qua sotto, leggermente, questi due, non quello anteriore, perché non servirebbe a nulla dal momento che sta fuori, quindi ovalizzarli un po' e vedrete che non esce più, per adesso lasciamolo così, mentre invece ci dice, vediamo se bastano davvero questi due fori per tenerla, io ho un po' di dubbi, però sarò ben contento di sbagliarmi, qualora invece bastassero davvero questi due perni per tenerla ferma... io non ci credo... bisognerà sicuramente incollarla... ma infatti dico... ma io dico... ma c'è qualcuno di voi che è riuscito a metterli... cioè, mi va bene perché abbiamo la posizione corretta del logo balilla, no? ma da qui a dire che bastano quei due perni sottili, così piccoli, per tenermi ferma la scritta, ce ne passa, eh ragazzi, cioè, assolutamente no! allora... stavo leggendo che non ci dicono assolutamente di incollarla, ma io dovrò incollarla per forza, con un tocco di bicomponente... vediamo... che andrò a mettere, non nei fori, ma con lo stuzzicadenti, uno qui... dove la scritta è più larga, vedete... e uno qui, dove c'è un altro pezzo più largo, è questa linea che scende... perché se mi vado a mettere la colla nei perni è brutto, perché poi mi fuoriesce dal perno... non si deve assolutamente vedere la colla... ma così... io non so se qualcuno di voi è riuscito a metterla... boh... io non credo... perché non sta... ma mi sembrava strano, ma come poteva stare ferma... ma figurati... va bene... comunque... va bene così... metteremo della colla, non è un problema... una... e due... il problema è che non mi sta né la griglia dietro, perché ci manca ancora la battuta poi posteriore... che la terra ferma nella sua sede... e né la scritta valilla qua davanti... va beh... questo è il montaggio terminato... ragazzi... quindi io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo... è inutile che mi chiediate se la faccio o non la faccio... perché devo veramente decidere ancora... sarei tentato di farla... però... preferisco anche vedere qualche modello che esce ancora... però ecco... diciamo che è più sì che no... ma è inutile che vi dica che la faccio per farvi iscrivere... perché magari siete interessati a questo modello... e poi invece non faccio i video ragazzi... ecco... mi piace essere corretto... per quanto invece riguarda... la base... è una base che sta bene su tutti i modelli in realtà... io ho fatto anche la Ferrari rossa della Poca Riva Rossi... e sta benissimo... però... dipende voi come volete esporre un modello... è ovvio che faccio qualsiasi misura e qualsiasi scala... però ci vogliono le prenotazioni... non mi chiedete di farvi una base... e darvela entro un mese e quindici giorni... perché insomma... per me diventa davvero impossibile con i tempi... perché il lavoro ce n'è... tanto... e anche il disegno bisogna poi... se deciderete di farvela fare da me... dovrete dirmi anche che disegno volete... perché non c'è solo la lisca di pesce... potete fare qualsiasi disegno... è ovvio che se è molto complicato... c'è più lavoro e costerà di più... tutto lì... io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo... un saluto e un abbraccio... a voi... un saluto a tutti i vostri cari più cari... per questo video è tutto... grazie ragazzi di avermi dedicato il vostro preziosissimo tempo... ci vediamo nei prossimi video... ciao...